Volevo condividere con voi tutti che sono sette mesi che uso i cerotti e entro qualche giorno ho due grandi cambiamenti fisici. Uno è un problema che ho alla spalla destra e un altro era un neo enorme che ho già da dieci anni. Tanta gente mi diceva vai dal dermatologo perché sicuramente è cancerogeno, io ero sicuro che non lo fosse, però era molto brutto, non osavo mai andare in giro. Con vestiti senza maniche insomma o con le maniche corte e quindi questi due cambiamenti mi hanno veramente stupita all'inizio, però quello che mi ha fatto più impressione ancora sono gli aspetti emotivi che sono cambiati con i cerotti. Sono una persona molto estrema, se faccio esercizio fisico lo faccio a mille, se faccio una dieta anche quella la faccio a mille e adesso sono molto più equilibrata, più tranquilla e i cerotti mi hanno proprio insomma equilibrata ecco. L'energia è sostenuta durante il giorno, non mi dà le botte di energia come la caffeina o le bibite sportive, è un'energia sostenuta che mi dura tutto il giorno e non ho neanche voglia di, non ho neanche bisogno di fare una pennica. Queste cose veramente mi hanno fatto una grande impressione. Mi ha anche aiutato molto con lo stress, viviamo in un mondo molto stressante e sicuramente tutte le persone con le quali parlate vi diranno che tante cose sembrano scappare dal controllo e però ecco come gestiamo lo stress, come rispondiamo alle situazioni della vita e devo dire che per me i cerotti sono stati veramente fantastici, ho visto una grande differenza in come gestisco le situazioni, le situazioni che sembrano uscire dal mio controllo e quindi questo aspetto emotivo è stato molto molto fantastico.